oggi parliamo di bellezza buongiorno, buonasera, buon pomeriggio facciamo che dico ciao a tutti benvenuti o bentornati su questo canale io sono Cristina e oggi parliamo di bellezza parliamo di bellezza con Stylevana abbiamo già parlato di questo sito che praticamente è un sito che vende skin care coreana, sapete che io mi sono innamorata totalmente delle cose che ho utilizzato la volta scorsa e io vi lascio in sovraimpressione qui uno sconto che voi potete avere appunto su questi prodotti o questo sito, non c'è dogana quindi state tranquilli che non c'è dogana sotto comunque nell'infobox trovate tutto come vi dicevo sono rimasta innamorata perché i prodotti sono davvero 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 fantastici e soprattutto sono a un prezzo veramente economico, oggi vi parlerò di dei set, quindi insomma i prezzi sono più grandi ma se pensate che di questi set fanno parte 4 o 5 prodotti capite bene che parliamo di prezzi da drugstore praticamente ma soprattutto sono prodotti efficaci, efficaci fantastici, cioè io vorrei che voi guardaste la mia pelle ovviamente io ho la luce ma se spengo la luce succede questo e quindi va bene dobbiamo per forza tenerla accesa io vorrei che voi la guardaste la mia pelle io ho 44 anni suonati perché fra tre mesi sono 45 cioè almeno io sono molto contenta soprattutto sono molto contenta perché io non ho neanche ancora iniziato ad utilizzare la tretinoina io vi ho già parlato di qualche altro prodotto di skin care appartenente ad altre linee altrettanto buono però sono particolarmente insistente per quanto riguarda questo tipo di prodotti perché questi prodotti sono low cost quindi sono prodotti che voi potete avere a dei prezzi più o meno da anzi credo che una crema diciamo da drugstore di quelle tipo oil of olaz che ora non sto a giudicare se sia buona o meno semplicemente è un tipo di marca presente nei drugstore o la Garnier comunque costano circa 10-15 euro e se voi fate i conti più o meno risparmiate addirittura allora io questa volta ho accettato di collaborare nuovamente con questo sito mi hanno inviato comunque due set il primo set si chiama Wonder ed è un set che diciamo contiene diversi prodotti io mentre vi parlo in sovraimpressione va online così va in onda va ora in onda va in onda perché siamo al buio non si saprà mai va diciamo in onda qualche immagine di io stupenda avevo un po' i capelli così non fateci caso ma quando mi alzo sono così il primo prodotto appunto la marca è Wonder e questi sono prodotti al riso nero questo è un cleansing gel con pH 5.5 senza profumo e credo che voi stiate vedendo comunque dalle immagini questo è il pack ve lo faccio vedere anche nelle immagini come vi dicevo senza totalmente profumo come avete visto dalle immagini è un gel che fa praticamente zero schiuma questa cosa è un po' inquietante mi rendo conto siete pregati di non fare alcun tipo di battuta scusate allora non fa alcun tipo di schiuma pulisce molto bene devo dire che è molto delicato sulla pelle più delicato nel senso che è meno sgrassante del prodotto che vi ho fatto vedere l'altra volta che era in crema quindi diciamo è un po' strana come cosa però questi prodotti che fanno schiuma o non la fanno proprio ne fanno poca sono dei prodotti che sono perfetti da utilizzare con i vari tools come il clarisonico comunque foreo e aggeggi simili per cui sono veramente comodi diciamo per utilizzare quei tools che io attualmente non uso ma inizierò a usare tra un po' perché voglio iniziare a sfogliare 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 dopodiché mi è stato inviato un toner sempre a riso nero all'acido ialuronico sempre della marca wonder lo vediamo qui in questa confezione questo è si dà questo ha un leggerissimo odore hanno degli odori molto erbacei molto naturali no questi odori tipici dei prodotti naturali mi stava appunto dicendo o con le mani o con il pad io preferisco con il pad quando comunque non hanno lo spray e appunto serve per dare questa sensazione leggermente di fresco a me piace usare il tonico in particolare d'estate però ho scoperto l'utilizzo anche d'inverno perché l'inverno io spesso la pelle è un irritata utilizzando comunque degli acidi per sfogliare può succedere quindi è sempre una bella sensazione altro prodotto comunque sempre riso nero prodotto di punta diciamo della skin care coreana penso l'abbiano inventata loro è la mist che è uno dei prodotti preferiti la skin care coreana diciamo che comunque è stata un prodotto stato adottato anche da molti brand italiani la mist non è altro che comunque un questa è black bamboo mist quindi non è il riso nero la mist è una specie di tonico a volte comunque un po' più semisolido a volte o comunque coadiuvato con degli oli o comunque delle vitamine dipende da acido ialuronico eccetera eccetera e che si spruzza nel viso cioè in questo modo adesso io lo scuoto appunto perché spesso è indicato di scuoterli perché ci sono diversi principi attivi e come vedete anche questa ha lo stesso profumo di del tonico e come vi dicevo appunto hanno questa nebulizzazione molto leggera non avete uno spray proprio che vi spara flash nell'occhio e comunque veramente veramente molto molto piacevole io come vi dicevo sto utilizzando questi prodotti da qualche giorno devo dire di non aver abbandonato ancora del tutto però la crema che potete avere comunque l'ultimo video che riguarda stylevana perché la trovo favolosa credo che una volta terminata l'acquisterò perché veramente quella è una crema super fantastica passiamo poi a un altro prodotto quindi sempre a riso nero qui abbiamo un un siero all'acido agliorronico antirughe eccolo qui guardate che bello il pack carinissimo eccolo qui questo è un pack carinissimo come vedete insomma da applicazioni si applica come un normalissimo siero come vedete proprio un siero comunque che si assorbe immediatamente anche questo profumazione sempre comunque abbastanza erbacea e naturale comunque sempre nel kit un altro prodotto a riso nero anche qui abbiamo un olio facciale quindi un olio che può essere utilizzato da solo quando c'è bisogno di un po più di idratazione io questo come vedete dalle immagini non c'è cioè perché comunque ancora non lo sto utilizzando o comunque per coadiuvare la crema che utilizzate tutti i giorni anche questo stesso identico odore erbaceo per comunque dare un po di idratazione in più magari d'inverno a dare come una specie di booster alla vostra crema fa poi parte dello stesso identico set questa mini size di toner anche questo a riso nero quindi io non so anche se il pack è un po' differente essendoci scritto black rise toner wonder credo che sia lo stesso però in versione mini size allora questo è un set quindi intero mentre un altro set che mi hanno inviato è questo eccolo qua in questa scatolina carinissima adesso ve lo faccio vedere così ancora confezionato eccolo qui poi vi faccio vedere i diversi pezzi allora abbiamo qui questo tonico questo è un toner bubble toner green plum più acido ianuronico veramente favoloso di questo me ne sono proprio innamorata io come vedete è una mini size però allora esce come una schiumetta guardate però non si tratta di un prodotto per lavare il viso ma pensi di un tonico che sulla pelle diventa subito acqua comunque un acqua non astringente un acido ianuronico quindi è idratante ed ha una specie di effetto ciclorino che mi è piaciuto tantissimo c'è proprio questo mi ha fatto proprio impazzire di questo set fanno poi parte anche due sieri in particolare questo è un siero a calmante al tè verde e pantenolo eccolo qua infatti è verde comunque funzione di un normalissimo siero quindi da dare prima della crema allora abbiamo poi un altro siero che è un siero innumilante alla propoli e al niacinamide anche questo insomma stessa stesso pack colore diverso ultimissima cosa abbiamo queste bustine in formato travel che dovrebbero essere queste sono quattro credo fossero sei in origine con della crema idratante quindi c'è scritto che una crema curativa e illuminante dentro questo diciamo piccola confezione ce ne sono circa due tre dosi quindi una bustina si apre fa due tre dosi però sono questi da mi è piaciuta tantissimo perché se mai questo set è perfetto per essere portato in viaggio anche qui prodotti fantastici trovate comunque sotto qui nell'info box tutti quanti riferimenti entrambi questi set perché sono dei set venduti per come ve li ho fatti vedere cioè quindi tutti insieme c'è uno sconto appunto a mio nome ovviamente non affiliato se così fosse lo sapreste io come sempre vi ringrazio tantissimo fatemi sapere se conoscete questi prodotti se avete provato questo sito perché davvero ci sono cose veramente fantastiche all'interno se lo conoscevate o meno se conoscete la skin care coreana cosa usate nella skin care coreana io come sempre spero di aver fatto cosa gradita a girare questo video o almeno spero di avervi tenuto in compagnia noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video ciao ciao